La presenza di aziende italiane Il motivo principale che mi ha portato a questa fiera è di anno in anno più importante, ormai abbiamo superato le 400 aziende presenti, oltretutto alcune anche consorziate fra loro per cluster produttivi o per regioni di provenienza. Quindi un evento, quello di Hannover, che conferma lo spessore veramente impressionante delle relazioni economiche fra Italia e Germania e l'importanza del ruolo che i due paesi possono giocare, soprattutto ora che abbiamo di fronte una sfida notevole, che è quella di affermare, difendere, sviluppare il ruolo dell'Europa nel campo dell'intelligenza artificiale, cercando di difenderne le posizioni su uno scenario che è di confrontazione molto competitiva con gli Stati Uniti, con la Cina. Nel quadro della fiera di Hannover, anche quest'anno con la collaborazione di vari enti italiani e della Camera di Commercio Italia-Germania, abbiamo potuto realizzare un altro dei nostri colloqui cosiddetti, in cui il mondo imprenditoriale, il mondo accademico, la Camera di Commercio, l'ambasciata, si sono confrontati su un tema molto importante come quello dell'intelligenza artificiale e soprattutto dello sviluppo di forme di dialogo e di interazione fra la macchina e l'uomo nei moderni processi produttivi, grazie alla disponibilità crescente di una massa enorme di dati che appunto l'intelligenza artificiale ci consente da un lato di disporre e dall'altro di governare. Un altro esempio quindi di come Italia e Germania si confermino all'avanguardia innanzitutto nel porsi determinati interrogativi e poi nel trovare delle soluzioni avanzate. Grazie a tutti.